Una porta aperta sul mondo del lavoro per i giovani toscani dai 18 ai 29 anni compiuti. Sono loro i destinatari del nuovo bando per i tirocini non curricolari della regione toscana, attivato nell'ambito del progetto Giovani Sì e finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Esperienza in corso, lo slogan dell'opportunità, rivolta ai giovani non occupati, residenti o domiciliati in Toscana, che inizino il tirocini entro 24 mesi dal conseguimento del diploma, della qualifica professionale, della laurea o dal momento dell'abbandono degli studi. Destinatari dell'opportunità sono anche i giovani che vivono in aree di crisi, nelle aree interne, i tirocinanti disabili e svantaggiati e quelli nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali. Il cofinanziamento per le aziende è di 300 euro rispetto ai 500 previsti per i tirocini con legge regionale. I risultati? Oltre 40.000 tirocini attivati tra 2011 e 2017 e in tanti hanno centrato l'obiettivo del contratto, magari in modo inatteso come Valentina, laureata nel 2012 e poi tirocinante in un'azienda farmaceutica e infine assunta. Dopo un annetto circa, l'azienda farmaceutica per cui ho fatto il tirocinio nel 2013 mi ha ricontattata. Per lì per lì una semplice sostituzione malattia, per la stessa posizione che avevo ricoperto nei sei mesi di tirocinio e dopo poche settimane l'azienda mi ha offerto un contratto a tempo indeterminato. Veronica, laureata in disegno industriale, ricorda invece così il suo tirocinio per diventare sarta. È stato molto utile, ho imparato tante cose e soprattutto mi ha permesso di conoscere anche tante piccole cose del mestiere che normalmente non si conoscerebbero e anche altre cose del nuovo artigiano, ovvero i social, ovvero l'essere presente sulle nuove piattaforme. E anche per l'azienda il tirocinio con giovani sia significato trovare una figura adatta ad essere formata per diventare una nuova artigiana. I risultati sono stati molto positivi, ecco Veronica ha avuto già una formazione molto buona in anticipo e devo dire che bisogna comunque avere un po' di conoscenze per poi poter entrare in una bottega. La domanda di tirocinio deve essere presentata dall'azienda solo per via telematica sulla piattaforma dedicata al tirocinio online cliccabile dalla pagina web di Giovani Sì. I termini per accedere al nuovo bando per i tirocini non curricolari restano attivi fino all'esaurimento dei fondi.